Questi non fanno niente, fanno compagnia, quindi non bisogna abbandonarli assolutamente, perché non portano malattie e non le prendono. Volevo dirvi che loro non sono contagiosi, loro non trasmettono il coronavirus, loro trasmettono solamente amore, per cui non li abbandonano. E poi, mi raccomando, ribadiamo il concetto che gli animali domestici non trasmettono il coronavirus, quindi mi raccomando, non abbandonategli. Cani e gatti non sono portatori di contagio, non contagiano, qualcuno ha già cominciato ad abbandonarli. È una fake news quella che hanno messo in giro, che cos'è una fake news? Una cazzata, baramosi tutti nel baratro. Buongiorno, buongiorno amici, buongiorno a tutti. Gli animali non trasmettono il virus, non sono contagiosi, non hanno alcuna possibilità di trasmettere malattie agli umani con i quali vivono. Gli animali trasmettono solo amore, solo amore e compagnia. Quindi se avete degli animali, vogliate loro bene, nutriteli, state con loro, carezzateli, non abbandonateli e non vi fate sfiorare dal pensiero che possono in qualche maniera contagiarvi. Gli animali non sono contagiosi. Non abbandonate gli animali, mi raccomando, non fatelo. È successo, ci sono notizie di abbandoni, non va affatto perché gli animali non sono contagiosi, e non solo. In questo momento ci possono tenere veramente tanta compagnia. Loro sì. Loro non sono contagiosi, non trasmettono il Covid-19. L'unico contagio che possono darti è il loro amore. Tieni li stretti a te e non abbandonarli.